Fissata per venerdì 31 gennaio alle ore 9 a Palazzo di Città la riunione dei capi gruppo per stabilire la data del prossimo Consiglio Comunale di Salerno, quello che al netto delle vicende giudiziarie in corso decreterà la decadenza di Vincenzo De Luca dalla carica di sindaco. Due le ipotesi al vaglio, 10 o 15 febbraio. Tradotte in sintesi significa che passerà ancora un mese circa prima che De Luca abdichi definitivamente dalla carica di primo cittadino, abbracciando in toto l'avventura romana di viceministro. La speranza del sindaco viceministro è che in questo lasso di tempo, un mese circa, si sblocchino anche le vicende romane con l'attribuzione di una delega o addirittura come fanno trapelare i fedelissimi di un vero e proprio ministero, approfittando anche dell'imminente rimpasto necessario dopo le dimissioni della Digirola. La decadenza di De Luca e la contestuale promozione del vice a sindaco si concretizzerà allora a marzo. Ciò significa ritorno al voto per la primavera del 2015 quando si andrà a votare anche per la regione campagna e chissà addirittura anche per le politiche. un vero e proprio election day che vedrà De Luca impegnatissimo su più fronti a caccia di un vero e proprio bingo. Se davvero si riuscisse a mettere insieme tutte queste scadenze elettorali, certe sarebbero al momento solo le amministrative a Salerno e le regionali, De Luca avrebbe ottenuto il risultato qui tende da tempo, ovvero una filiera istituzionale che partendo da Salerno, bypassando la provincia che nel frattempo dovrebbe scomparire, arrivare fino a Napoli per giocarsi in campo aperto la partita contro Stefano Caldoro. Il piano d'azione è stato già illustrato a Matteo Renzi ricevendo l'approvazione ed anche per questo, a differenza di quanto si potesse immaginare sul caso De Luca, sulla sentenza di primo grado del Tribunale di Salerno che ne ha sancito l'incompatibilità con l'incarico di sindaco, il Partito Democratico è rimasto in silenzio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.